Cari cittadini della Russia, cari amici, oggi ritengo ancora una volta necessario tornare sui tragici eventi accaduti nel Donbass e sulle questioni chiave per garantire la sicurezza della stessa Russia. Vorrei iniziare con quanto detto nel mio discorso del 21 febbraio di quest'anno. Stiamo parlando di ciò che ci provoca particolare preoccupazione e ansia di quelle minacce che anno dopo anno, passo dopo passo, vengono create in modo rude e senza tante cerimonie da politici irresponsabili in Occidente nei confronti del nostro Paese. Intendo l'espansione del blocco Nato ad est, avvicinamento delle sue infrastrutture militari ai confini russi. È ben noto che per 30 anni abbiamo cercato con insistenza e pazienza di raggiungere un accordo con i principali Paesi della Nato sui principi di una sicurezza uguale e indivisibile in Europa. In risposta alle nostre proposte abbiamo costantemente affrontato o cinici inganni e bugie, o tentativi di pressione e ricatti, mentre l'alleanza del Nord Atlantico, nel frattempo, nonostante tutte le nostre proteste e preoccupazioni, è in costante espansione. La macchina da guerra si muove e, ripeto, si avvicina sempre di più ai nostri confini. Perché sta succedendo tutto questo? Da dove viene questo modo sfacciato di parlare dalla posizione della propria esclusività, infallibilità, permissività? Da dove viene questo atteggiamento sprezzante e presuntuoso nei confronti dei nostri interessi e delle nostre esigenze assolutamente legittime? La risposta è chiara. Tutto è molto ovvio. L'Unione Sovietica, alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, si è indebolita e poi è completamente crollata. L'intero corso degli eventi che hanno avuto luogo allora è una buona lezione anche per noi oggi. Ha mostrato in modo convincente che la paralisi del potere e della volontà è il primo passo verso il completo degrado e l'oblio. Non appena abbiamo perso la fiducia in noi stessi per qualche tempo, l'equilibrio di potere nel mondo è stato distrutto. Ciò ha portato al fatto che i precedenti trattati accordi non sono più in vigore. La persuasione e le richieste non funzionano. Tutto ciò che non si addice all'egemone, a chi è al potere, è dichiarato arcaico, obsoleto, non necessario. E viceversa. Tutto ciò che sembra loro vantaggioso è presentato come la unica verità portata avanti a tutti i costi, in maniera rozza, con tutti i mezzi. I dissidenti sono spezzati con non curanza. Ciò di cui parlo ora non riguarda solo la Russia e non preoccupa solo noi. Questo vale per l'intero sistema delle relazioni internazionali e talvolta anche per gli stessi alleati degli Stati Uniti d'America. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica iniziò effettivamente la spartizione del mondo e le norme di diritto internazionale che si erano sviluppate a quel tempo e quelle chiave di base furono adottate alla fine della Seconda Guerra Mondiale e ne consolidarono ampiamente i risultati. Cominciarono a interferire con coloro che si dichiararono vincitori della Guerra Fredda. Certo, nella vita, nelle relazioni internazionali, nella loro regolamentazione bisognava tener conto dei mutamenti della situazione mondiale e degli stessi equilibri di potere. Tuttavia, ciò avrebbe dovuto essere fatto in modo professionale, fluido, paziente, tenendo conto e rispettando gli interessi di tutti i Paesi e comprendendo le proprie responsabilità. Ma no, uno stato di euforia, da assoluta superiorità, una sorta di moderna forma di assolutismo e anche sullo sfondo di un basso livello di cultura generale e arroganza di coloro che hanno preparato, adottato e spinto attraverso decisioni vantaggiose solo per loro stessi. La situazione iniziò a svilupparsi secondo uno scenario diverso. Gli esempi non mancano. In primo luogo, senza alcuna sanzione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, hanno condotto una sanguinosa operazione militare contro Belgrado, utilizzando aerei e missili proprio nel centro dell'Europa. Diverse settimane di continui bombardamenti di città, di civili, infrastrutture, di supporto vitale. Dobbiamo ricordare questi fatti ad alcuni colleghi occidentali ai quali non piace ricordare quegli eventi e quando ne parliamo preferiscono indicare non le norme del diritto internazionale, ma le circostanze che interpretano come meglio credono. Poi è toccato all'Iraq, alla Libia, alla Siria. L'uso illegittimo della forza militare contro la Libia, il forzato cambiamento di tutte le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla questione libica, hanno portato alla completa distruzione dello Stato, all'emergere di un enorme focolaio di terrorismo internazionale, al fatto che il Paese è precipitato in una catastrofe umanitaria e alla guerra civile che non si ferma da molti anni. La tragedia, che ha condannato centinaia di migliaia, milioni di persone, non solo in Libia, ma in tutta questa regione, ha dato luogo a un massiccio esodo migratorio dal Nord Africa e dal Medio Oriente verso l'Europa. Un destino simile era stato preparato per la Siria. I combattimenti della coalizione occidentale sul territorio di questo Paese, senza il consenso del governo siriano e la sanzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non sono altro che un'aggressione. Tuttavia, un posto speciale in questa serie è occupato, ovviamente, dall'invasione dell'Iraq, anche qui, senza nessun fondamento giuridico. Come pretesto, hanno scelto informazioni affidabili forniti dagli Stati Uniti sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. E poi, si è scoperto che tutto questo era una bufala, un blef. Non ci sono armi chimiche in Iraq. Incredibile, sorprendente, ma il fatto resta. C'erano bugie al più alto livello statale e dall'alto podio delle Nazioni Unite e, di conseguenza, perdite enormi, distruzione, un'incredibile ondata di terrorismo. In generale, si ha l'impressione che praticamente ovunque, in molte regioni del mondo, dove l'Occidente viene a stabilire il proprio ordine, il risultato siano ferite, sanguinanti e mai rimarginate, ulcere del terrorismo internazionale e dell'estremismo. Tutto ciò, ho detto, è il più eclatante, ma non l'unico esempio di disprezzo del diritto internazionale. In questa serie ci sono promesse al nostro Paese di non espandere la Nato nemmeno di un pollice a est. Ripeto, mi hanno ingannato, in termini popolari ci hanno fregato. Sì, si sente spesso dire che la politica è un affare sporco. Forse, ma non nella stessa misura. Non nella stessa misura. Dopotutto, tale comportamento da imbroglioni contraddice non solo i principi delle relazioni internazionali, ma soprattutto le norme morali e morali generalmente riconosciute. Dov'è la giustizia e la verità qui? Solo un mucchio di bugie e di ipocrisia. A proposito, politici, scienziati e giornalisti americani stessi scrivono e parlano del fatto che negli ultimi anni negli Stati Uniti si è creato un vero e proprio impero delle bugie. È difficile non essere d'accordo. È proprio così. Ma non si deve essere modesti. Gli Stati Uniti sono ancora un grande paese, una potenza. Tutti i suoi satelliti non solo danno rassegnato e doveroso assenso, cantano insieme a lei per qualsiasi motivo, ma copiano anche il suo comportamento, accettano con entusiasmo le regole che propone. Pertanto, a ragione, possiamo affermare con sicurezza che l'intero cosiddetto blocco occidentale formato dagli Stati Uniti a propria immagine e somiglianza è tutto il vero impero della menzogna. Quanto al nostro paese, dopo il crollo dell'URSS, con tutta l'apertura senza precedenti della nuova Russia moderna, la disponibilità a lavorare onestamente con gli Stati Uniti e gli altri partner occidentali e nelle condizioni di un disarmo praticamente unilaterale, hanno subito cercato di schiacciarci, finirci e distruggerci completamente. Questo è esattamente ciò che è successo negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, quando il cosiddetto occidente collettivo ha sostenuto più attivamente il separatismo e le bande mercenarie nella Russia meridionale. Quali sacrifici, quali perdite ci costrò tutto questo allora, quali prove abbiamo dovuto affrontare prima di spezzare finalmente la schiena al terrorismo internazionale nel Caucaso? Lo ricordiamo e non lo dimenticheremo mai. Sì, infatti, fino a poco tempo fa, i tentativi non hanno smesso di usarci nel proprio interesse, di distruggere i nostri valori tradizionali, di imporci i loro pseudovalori che corroderebbero noi, la nostra gente dall'interno, quegli atteggiamenti che stanno già piantando in modo aggressivo nei loro paesi e che portano direttamente al degrado e alla degenerazione perché contraddicono la stessa natura dell'uomo. Non succederà, nessuno è mai riuscito a farlo, non funzionerà neanche adesso. Nonostante tutto, nel dicembre 2021 abbiamo comunque tentato ancora una volta di concordare con gli Stati Uniti e i loro alleati sui principi di garantire la sicurezza in Europa e sulla non espansione della Nato. Tutto è stato in vano, la posizione degli Stati Uniti non cambia, non ritengono necessario negoziare con la Russia su questa questione fondamentale per noi, perseguendo i loro obiettivi e trascurando i nostri interessi. E ovviamente in questa situazione dobbiamo porre una domanda cosa fare dopo, cosa dobbiamo aspettarci. Sappiamo bene dalla storia come negli anni 40 e all'inizio degli anni 40 l'Unione Sovietica abbia cercato in tutti i modi di prevenire o almeno ritardare lo scoppio della guerra. A tal fine, tra l'altro, ha cercato letteralmente fino all'ultimo di non provocare un potenziale aggressore, non ha compiuto e ha rimandato le azioni più necessarie ovvie per prepararsi a respingere un inevitabile attacco. Dopo, però, era troppo tardi. Di conseguenza, il paese non era pronto ad affrontare pienamente l'invasione della Germania nazista che attaccò la nostra patria il 22 giugno del 1941 senza dichiarare guerra. Il nemico fu fermato e poi schiacciato, ma a un costo colossale. Un tentativo di placare l'aggressore alla vigilia della grande guerra patriottica si è rivelato un errore che è costato caro al nostro popolo. Nei primissimi mesi di ostilità abbiamo perso territori enormi e strategicamente importanti nonché milioni di persone. Non faremo un errore del genere la seconda volta, non ne abbiamo alcun diritto. Coloro che rivendicano il dominio del mondo pubblicamente, impunemente e sottolineo senza alcun motivo dichiarano noi russi come loro nemici. Infatti oggi hanno grandi capacità finanziarie, scientifiche, tecnologiche e militari. Ne siamo consapevoli e valutiamo oggettivamente le minacce che vengono costantemente rivolte in ambito economico nonché la nostra capacità di resistere a questo ricatto spacciato e permanente. Ripeto, li valutiamo senza illusioni in modo estremamente realistico. per quanto riguarda la sfera militare la Russia moderna anche dopo il crollo dell'URSS e la perdita di una parte significativa del suo potenziale è oggi una delle più potenti potenze nucleari del mondo e inoltre possiede una serie di nuovissimi tipi di armi. A questo proposito nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto al nostro paese porterà alla sconfitta e alle terribili conseguenze per qualsiasi potenziale aggressore. Allo stesso tempo le tecnologie comprese le tecnologie di difesa stanno cambiando rapidamente. La leadership in quest'area sta passando e continuerà a passare di mano ma lo sviluppo militare dei territori adiacenti ai nostri confini se lo consentiremo durerà per decenni a venire e forse per sempre e creerà una minaccia sempre crescente e assolutamente inaccettabile per la Russia. Anche ora mentre la NATO si espande ad est la situazione per il nostro paese peggiora e diventa ogni anno più pericolosa. Inoltre in questi giorni la leadership della NATO ha parlato apertamente della necessità di accelerare l'avanzamento della infrastruttura dell'alleanza fino ai confini della Russia. In altre parole stanno rafforzando la loro posizione. Non possiamo più semplicemente continuare a osservare quello che accade. sarebbe assolutamente irresponsabile da parte nostra. L'ulteriore espansione delle infrastrutture dell'alleanza NATO lo sviluppo militare dei territori dell'Ucraina che è iniziato per noi è inaccettabile. Il punto ovviamente non è l'organizzazione NATO in sé è solo uno strumento della politica estera statunitense. Il problema è che nei territori a noi adiacenti noterò nei nostri stessi territori storici si sta creando un'anti-Russia a noi ostile posta sotto il pieno controllo esterno intensamente colonizzata dalle forze armate dei paesi della NATO e fornita delle armi più moderne. Per gli Stati Uniti e i suoi alleati questa è la cosiddetta politica di contenimento della Russia presenta dividendi geopolitici e per il nostro paese questa è in definitiva una questione di vita o di morte una questione del nostro futuro storico come popolo e questa non è in vero un'esagerazione questa è una vera minaccia non solo per i nostri interessi ma anche per l'esistenza stessa del nostro Stato per la sua sovranità questa è la linea rossa di cui si è parlato molte volte una linea rossa che adesso hanno deciso di superare a questo proposito e sulla situazione nel Donbass vediamo che le forze che hanno compiuto un colpo di Stato in Ucraina nel 2014 hanno preso il potere e lo stanno detenendo con l'aiuto di fatto di procedure elettorali decorative hanno finalmente abbandonato la soluzione pacifica del conflitto per otto anni otto infiniti anni abbiamo fatto tutto il possibile per risolvere la situazione con mezzi pacifici e politici tutto è risultato in vano come ho detto nel mio discorso precedente non si può guardare ciò che sta accadendo lì senza compassione era semplicemente impossibile sopportare tutto questo era necessario fermare immediatamente questo incubo il genocidio contro milioni di persone che vivono lì che fanno affidamento solo sulla Russia e sperano solo in noi sono state queste aspirazioni questi sentimenti il dolore delle persone che sono state per noi il motivo principale per prendere la decisione di riconoscere le repubbliche popolari del Donbass quello che penso sia importante sottolineare ulteriormente i principali paesi della Nato al fine di raggiungere i propri obiettivi sostengono in tutto i nazionalisti estremisti e neonazisti in Ucraina che a loro volta non perdoneranno mai i residenti di Crimea e Sebastopoli per la loro libera scelta la riunificazione con la Russia loro certamente andranno in Crimea e allo stesso modo come nel Donbass con la guerra per uccidere come i punitori delle bande dei nazionalisti ucraini complici di Hitler uccisero persone in difese durante la grande guerra patriottica loro dichiarano apertamente di rivendicare un certo numero di altri territori russi l'intero corso degli eventi e l'analisi delle informazioni in arrivo mostra che lo scontro della Russia con queste forze è inevitabile è solo questione di tempo si stanno preparando aspettano il momento giusto ora vorrebbero anche possedere armi nucleari non permetteremo mai che ciò avvenga come ho detto prima dopo il crollo dell'URSS la Russia ha accettato nuove realtà geopolitiche rispettiamo e continueremo a trattare con rispetto tutti i paesi di nuova formazione nello spazio post sovietico rispettiamo e continueremo a rispettare la loro sovranità e un esempio di ciò è l'assistenza che abbiamo fornito al Kazakistan che ha dovuto affrontare eventi tragici con una sfida alla sua statualità e integrità ma la Russia non può sentirsi al sicuro non può svilupparsi non può esistere con una minaccia costante proveniente dal territorio dell'Ucraina moderna permettetemi di ricordarvi che nel 2000 2005 abbiamo combattuto i terroristi nel Caucaso abbiamo difeso l'integrità del nostro stato salvato la Russia nel 2014 abbiamo sostenuto i residenti della Crimea e di Sebastopoli nel 2015 le forze armate hanno posto una barriera affidabile alla penetrazione dei terroristi dalla Siria in Russia non avevamo altro modo per proteggerci la stessa cosa sta accadendo ora semplicemente a noi non è stata lasciata alcuna altra opportunità per difendere la Russia il nostro popolo ad eccezione di quella che saremo costretti ad affrontare oggi le circostanze richiedono un'azione decisa e immediata le repubbliche popolari del Donbass si sono rivolte alla Russia con una richiesta di aiuto a questo proposito ai sensi dell'articolo 51 della settima parte della Carta delle Nazioni Unite con l'approvazione del Consiglio della Federazione Russa e in applicazione dei trattati di amicizia e assistenza reciproca ratificati dall'Assemblea Federale il 22 febbraio di quest'anno con il Donets Repubblica Popolare e Repubblica Popolare di Lugasco ho deciso di condurre un'operazione militare speciale l'obiettivo è proteggere le persone che sono state oggetto di persecuzione e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni e per questo ci adopereremo per la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina nonché per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro i civili compresi cittadini della Federazione Russa allo stesso tempo i nostri piani non includono l'occupazione dei territori ucraini non imporremo nulla a nessuno con la forza allo stesso tempo sentiamo che negli ultimi tempi in Occidente in tanti ritengono che i documenti firmati dal regime totalitario sovietico che hanno consolidato i risultati della seconda guerra mondiale non dovrebbero più essere tenuti in conto ebbene qual è la risposta a questo i risultati della seconda guerra mondiale così come i sacrifici fatti dal nostro popolo sull'altare della vittoria sul nazismo sono sacri ma questo non contraddice gli alti valori dei diritti umani e delle libertà basati sulla realtà che si sono sviluppati oggi in tutti i decenni del dopoguerra inoltre tutto questo non annulla il diritto delle nazioni all'autodeterminazione sancito dall'articolo 1 della carta delle nazioni unite vorrei ricordare che né durante la creazione dell'URSS né dopo la seconda guerra mondiale alle persone che vivevano in determinati territori che hanno fatto parte della cruna moderna non è mai stato chiesto come volevano organizzare la propria vita la nostra politica si basa sulla libertà la libertà di scelta per ciascuno di determinare autonomamente il proprio futuro il futuro dei propri figli e riteniamo questo importante diritto il diritto di scelta possa essere utilizzato da tutti i popoli che vivono sul territorio dell'odierno Ucraina da chiunque lo desideri a questo proposito mi rivolgo ai cittadini ucraini nel 2014 la Russia è stata obbligata a proteggere gli abitanti della Crimea e di Sebastopoli da coloro che loro stessi chiamano nazisti i residenti di Crimea e Sebastopoli hanno scelto di stare con la loro patria storica con la Russia e noi li abbiamo sostenuti ripeto semplicemente non potevamo fare altrimenti gli eventi di oggi non sono collegati al desiderio di violare gli interessi dell'Ucraina o del popolo ucraino sono legati alla protezione della stessa Russia protezione da intendersi contro coloro i quali hanno preso in ostaggio l'Ucraina e stanno cercando di usarla contro il nostro paese contro il nostro popolo ripeto le nostre sono azioni di autodifesa contro le minacce che si stanno creando contro di noi per un disastro ancora più grande di quello che sta capitando oggi per quanto difficile possa essere vi chiedo di comprenderlo e di collaborare per voltare al più presto questa tragica pagina e andare avanti insieme per non permettere a nessuno di interferire nei nostri affari nelle nostre relazioni ma per costruirli da soli in modo che si creino le condizioni necessarie per superare tutti i problemi e nonostante la presenza di confini statali ci si rafforzi dall'interno nel suo insieme io credo in questo questo è il nostro futuro vorrei rivolgermi anche al personale militare e alle forze armate ucraine cari compagni i vostri padri nonni bisnonni non hanno combattuto i nazisti difendendo la nostra patria comune per permettere ai neonazisti di oggi di prendere il potere in ucraina avete giurato fedeltà al popolo ucraino e non alla giunta antipopolare che saccheggia l'ucraina e fa del male a voi stessi non eseguite gli ordini criminali del governo ucraino vi esorto a deporre immediatamente le armi e ad andare a casa mi spiego ancora meglio tutti i militari dell'esercito ucraino che soddisfino questo requisito potranno lasciare liberamente la zona di combattimento e tornare alle loro famiglie ancora sottolineo con forza ogni responsabilità per un possibile sbargimento di sangue ricade interamente sulla coscienza del regime che regna sul territorio dell'ucraina ora dirò alcune parole importanti molto importanti indirizzate a coloro che potrebbero essere tentati di intervenire negli eventi in corso chi cercherà di ostacolarci e ancora di più di creare minacce per il nostro paese per il nostro popolo deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà conseguenze tali che nessuno ha mai sperimentato nella storia siamo pronti per qualsiasi tipo di sviluppo degli eventi tutte le decisioni necessarie al riguardo sono già state prese spero di essere ascoltato cari cittadini russi il benessere l'esistenza stessa di interi stati e popoli il loro successo la loro vitalità hanno sempre origine nel potente apparato della loro cultura e valori esperienze e tradizioni dei loro antenati e ovviamente dipendono direttamente dalla capacità di adattarsi rapidamente ad una vita in continuo cambiamento dalla coesione della società dalla sua disponibilità a consolidarsi a raccogliere tutte le forze per andare avanti le forze sono necessarie sempre sempre ma la forza può essere di qualità diverse al centro della politica dell'impero della menzogna di cui ho parlato all'inizio del mio discorso c'è principalmente la forza bruta in questi casi diciamo se c'è la forza l'intelligenza non è necessaria ma noi sappiamo che la vera forza è nella giustizia e nella verità che è dalla nostra parte se è così allora è difficile non essere d'accordo con il fatto che sono la forza e la prontezza a combattere che stanno alla base dell'indipendenza e della nostra sovranità sono le basi necessarie su cui si può costruire in modo affidabile il futuro costruire la casa la famiglia la patria carico nazionale sono fiducioso che i soldati e gli ufficiali delle forze armate russe devote al loro paese adempiranno il loro dovere in modo professionale e coraggioso non ho dubbi che tutti i livelli di governo gli specialisti responsabili della stabilità della nostra economia del sistema finanziario della spera sociale i capi delle nostre aziende e tutte le imprese russe agiranno in modo coordinato ed efficiente conto su una posizione consolidata e patriottica di tutti i partiti parlamentari e della forza pubblica in definitiva come sempre è stato nella storia il destino della Russia è nelle mani affidabili del nostro popolo e questo significa che le decisioni prese saranno attuate gli obiettivi fissati saranno raggiunti la sicurezza della nostra patria sarà garantita in modo affidabile credo nel vostro sostegno in quella forza invincibile che ci dà il nostro amore per la patria grazie a tutti